E' il tempo di lavorare. Let's go! Lights out! Straight to yourself! World War Z. Rated PG-13 starts Friday. Rezzana. E' il pallone sulla traversa. E poi calcio d'angolo. Zana stava per segnare un gol indimenticabile. Sous-titrage ST' 501. E' il pallone la patate ma partagale. D'ましたrimei. Sous-titrage ST' 501. Cirque duos. Un plaque de l'ar比lote. Et Massa Gio. Un plaque de l'ar比lote. Tanto sana, 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 sana il tiro! Oh mamma mia, quel gol! L'Orik! Sana l'incrocio dei pali, cosa ha fatto? L'Orik! Anche ce ne andiamo a Roma felici e contenti all'incrocio dei pali! Una foto incredibile! Buga la regnatela e andiamo ragazzi! E grande festa a Bergamo! La grande Lazio è resuscitata a Bergamo! Finalmente l'Orik sana! Che gol ragazzi! 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 Che gol ragazzi!